Vergine felice, che hai generato il Signore, beata Madre della Chiesa, che fai ardere in noi lo spirito del tuo Figlio, Gesù Cristo. Oggi celebriamo la festa di Maria, Madre della Chiesa, dal Vangelo di Giovanni, capitolo 19, versetti 25 e 34. In quel tempo stavano presso la croce di Gesù, sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse la madre, donna, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo, ecco tua madre. E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Dopo questo Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la scrittura, disse, ho sete. Vi era lì un vaso pieno di aceto. Posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna, gliela posero e glielo accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto Gesù disse, è compiuto. E chinato il capo consegnò lo spirito. Era il giorno della palascevia. I giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, era infatti un giorno solenne quel sabato, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno e all'altro, che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco e subito ne uscì sangue e acqua. Oggi il Vangelo presenta quattro scene. La scena della madre, la sete di Gesù, la morte di Gesù, il colpo di lancia. Ci soffermiamo sulla prima scena, la scena della madre. Presso la croce stavano le discepole fedeli, che a differenza degli apostoli non erano fuggite. E c'è anche il discepolo amato. Noi lo riconosciamo in Giovanni, colui che ha scritto il Vangelo. E Gesù dice alla madre, ecco tuo figlio, e al discepolo prediletto, ecco tua madre. Queste parole possono essere interpretate in un primo significato, immediato. Maria è chiamata a prendersi cura di Giovanni e Giovanni deve essere pronto ad accogliere Maria nella propria casa. La tradizione dice che Giovanni l'ha portata con sé ad Efeso. Ma queste parole, pronunciate in un momento così importante, hanno un senso profondo. Il contesto solenne nel quale Gesù pronuncia queste parole dice che l'espressione scelta da Gesù, donna, ecco tuo figlio, hanno un valore teologico, profondo. Anche l'espressione è, ecco tua madre, ecco tuo figlio. È un modo tipico di Giovanni per rivelare una missione, come quando Giovanni Battista aveva detto a Gesù, ecco l'agnello di Dio, dicendo con questa espressione, rivela la missione di Gesù di essere agnello. Qui rivela la missione di Maria di essere madre. Anche la parola con cui Gesù chiama la mamma, la chiama donna, ha un valore simbolico, tipico di Giovanni e di tutta la Bibbia. La parola donna richiama infatti il modo con cui in Israele si parla della città, si parla del popolo. Il popolo di Israele è la donna amata da Dio, è la sposa scelta da Dio. Quindi possiamo pensare che questa scena, appunto, descriva la missione di Maria a rappresentare tutto il popolo. È il popolo fedele che rimane accanto a Gesù anche nella croce, che è lì ai piedi della croce. Ed è ancora segno Maria, la madre, la donna, con lei che accoglie Giovanni, il figlio, i discepoli che formano il nuovo popolo di Israele. E il compito della madre è di accogliere i discepoli, di curarli, di sostenerli nel loro cammino di discepoli. Maria, con il suo esempio, con la sua fede, dice ai discepoli, fate quello che il Signore vi dirà. Così aveva detto a Cana e così continua a ripetere a noi che accogliamo Maria come segno della madre. Madre lei come persona, ma madre come segno di quella Chiesa, di quella comunità che ci ha generato e nella quale camminiamo. Si è discepoli se si ama Maria. L'amore verso Maria non è un optional, lo ricorda spesso Papa Francesco. Noi amiamo Maria, la guardiamo, seguiamo il suo esempio, ma siamo chiamati anche a riconoscere ciò che Maria rappresenta in quanto madre che ci accoglie, che ci accompagna, diventa segno di quella comunità che ci ha generato alla fede e che ci sostiene nel cammino della fede. Oggi ricordiamo che nessuno di noi è diventato cristiano da solo, come nessuno di noi è nato se non da una madre, così ciascuno di noi è nato come cristiano perché ha una madre ed è la comunità cristiana dove noi celebriamo i sacramenti, dove in particolare riceviamo il corpo di Gesù, dove ascoltiamo la parola del Vangelo. La comunità cristiana è il luogo dove lo Spirito Santo suscita i suoi doni, i suoi carismi, tra questi anche il ministero apostolico che è appunto il compito pastorale di radunare e di guidare la comunità. Quindi accogliere Maria, una devozione vera che poi noi maturiamo nel mese di maggio, deve aiutarci a vincere la tentazione di presumere di camminare nella fede da soli. Credo a modo mio, credo nel mio intimo, scegliendo noi le parole, le devozioni, i momenti, mentre rifiutiamo l'aiuto della comunità, la Chiesa. Certo, la Chiesa ha difetti, però come non si è nati, se non una donna, anche con difetti, così noi siamo nati in questa comunità che pure è segnata dei peccati, ma che è santa non per la santità dei suoi membri, ma perché ci dona lo Spirito Santo e lo rende attuale oggi per noi la parola di Gesù, il corpo di Gesù. Se siamo uniti a questa comunità, allora camminiamo nella verità. Amiamo la Chiesa, preghiamo per la Chiesa, affidiamola alla intercessione di Maria. Maria, madre della Chiesa, prega per noi.